Studio consente anche la gestione e l'implementazione di due archivi che sono tecnici e imprese. Questi archivi sono di particolare importanza perché ci consentiranno di automatizzare la procedura di creazione di determinata modulistica che poi verrà trattata in un video a parte. Anche i tecnici e imprese si trovano all'interno degli archivi, anche per i tecnici è possibile visualizzare quelli inseriti e andare a effettuare una ricerca, quindi molto veloce, così come per le imprese. Allo stesso modo è possibile una volta selezionato il tab tecnici aggiungere un nuovo tecnico o salvare o selezionare o eliminare un altro tecnico, anche qui delle automazioni per quanto riguarda titoli e creazioni di codice fiscale. Questi sono i dati richiesti, quindi dati del professionista, dati di iscrizione a collegio e ordine, dati dello studio. Torniamo indietro, idem per le imprese, posso anche qui con il doppio clic col tasto destro andare a visualizzare i dati, i dettagli di imprese già inseriti oppure aggiungere una nuova impresa. Grazie